Bella ragazzi, prima del video mi raccomando non dimenticate di fare un salto nel primo link in descrizione ragazzi Instant Gaming dove troverete un sacco di videogiochi a prezzi scontatissimi Tra cui anche Resident Evil 2, un prezzo veramente ridicolo Primo link in descrizione, Instant Gaming Ehi, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video Io sono Xyuder e ragazzi continuiamo a parlare delle sfide della settimana numero 9 di Fortnite Una sfida in particolare, quella dove dovremmo danzare in tre posti differenti della mappa Allora ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere Voi intanto mettete un bel pollicione in su e iscrivetevi al canale Raga, fase numero 1, ballare sopra una meridiana Beh ragazzi, l'unica meridiana che è presente su Fortnite è proprio questa Vi faccio vedere dalla mappa dove siamo Come vedete tra lande letali e... Nooo, sono caduto E Paradise Palm Ma che ciula Vabbè ragazzi, la meridiana è qua sopra È quella che avete vista Aspetta, faccio una rigenerazione al volo È qua sopra Una volta che ci sarete atterrati Basterà semplicemente Eccola qua ragazzi Basterà semplicemente ballarci sopra E... Fase numero 1 Completata Fase numero 2 ragazzi Ballare in cima a una tazza di caffè gigante Beh ce n'è una sola nella mappa E come sapete è proprio dove ci sono i due magazzini La stiamo già vedendo ragazzi Eccola qua L'unica Quella che va ad indicare il bar che c'è qua a magazzini Ci saliamo sopra Ci facciamo una bella ballata ragazzi Numero 2 fatto E siamo alla fase finale ragazzi Dove dobbiamo ballare sopra la testa di un cane gigante Forse non tutti sanno dove si trova Ve lo faccio vedere io Dobbiamo andare a crocevia del ciarpame Come vedete tornato senza la neve Beh ragazzi All'inizio, all'ingresso di crocevia C'è proprio sull'insegna un cane gigante Eccolo qua ragazzi Lo stiamo già vedendo con il naso rosso E' palesemente lui Tiene anche in bocca un osso Formato dai rottami Ci andiamo sopra Molto tranquillamente Facciamo la nostra danza E la sfida è completata Beh ragazzi mi raccomando di lasciare un bel pollicione in su Iscrivetevi in tantissimi al canale Noi siamo in live Ciao E non parte mai l'altro Noi siamo in live Noi siamo in live